Aleandro i miei iscritti confidano in te Bye Hola a todos io sono Cronox Ben ritrovati nel mio canale Come sempre prima di iniziare saluto alcuni miei iscritti Quest'oggi saluto Massimiliano Colombi DRJoker00 Matix03 Gabriele Cozzi Mavic Games E Cristian Vi ringrazio per il supporto Oggi giocheremo ad Happy Wheels Mi raccomando Supportatemi con un bel pollice in su Andiamo subito nel menu Che rima tra l'altro Eccoci ragazzi Andiamo subito a cercare qualche livello 100% impossible Sapete che io mi faccio attrarre proprio da questi livelli Quindi proviamo a farlo Che cazzo Perché inizia con un'ascia in culo Ma non facciamoci troppe domande Ok ho capito il classico livello che davvero non si può fare Fatto a cazzo in poche parole Però ci riprovo Ok lasciamo perdere Proviamo a fare Questo qua 99% In post No in post In post Bene Per poco stavolta Cazzarola Sì vabbè Ma questa è cogliona proprio Dai No Guardatela per quanto Dai No Ci devo riuscire Vai 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 No Guardate per Per pochissimo Vai 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 No No vaffanculo Non me ne frega proprio di terminarlo Devo scegliere Lui Mi avevate consigliato i nomi nei commenti Ma non me ne ricordo nemmeno uno purtroppo Quindi ne inventerò io uno Ora Bene Allora come potremmo chiamarlo lui Lo chiamiamo Aleandro Sì Aleandro sembra ottimo Dai Aleandro E abbiamo vinto Grande Aleandro Andiamo subito a fare un altro livello Allora sto cliccando Bene Quest'altro non si clicca proprio Ti fa morire anche questo La spada invece non fa niente Ah La spada ti faceva andare avanti Gold Vaffanculo Allora abbiamo capito che per andare avanti Dobbiamo cliccare la spada qua E qua dobbiamo fare attenzione Facciamo il verde Eccellente Abbiamo vinto Pensavo fosse più difficile Proviamo a fare questo Impossible Illusion Che figata Sembra figo Sono vivo a caso Vai Olè No Sono ancora vivo Vai Aleandro No Aleandro Aleandro I miei iscritti confidano in te Vai Aleandro Non possiamo deludere i nostri iscritti Forza Forza Aleandro Aleandro ma che diavolo stai facendo Oddio Sembra un pesce a spada Morto Ho un altro tentativo Che non guasta mai Ma perché mi cade là sotto Vaffanculo Aleandro Deve andare avanti Non indietro Stupido Dione Aleandro Vai 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 Vaffanculo Aleandro Facciamo questo Botton run Vediamo se riusciamo a vincere Bene L'inizio è spettacolare E anche la fine Oddio Avevo fatto Delle acrobazie Bellissime Però sono morto Vai 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 Oh 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 No Vaffanculo Vai 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 No Non ci credo Vai 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 Eh sì Questo è andato proprio liscio come l'olio Perfetto Ho letto impossible La tentazione È grande Oddio No Eh ma C'è Ipotizzando che riesco a passare questo Ragazzi Avevo chiuso per sbaglio Happy Wheels Impossible 87% Poco Proviamo Oddio Che cavolo Ma noi non ce la rendiamo E faremo un altro Tent Tentativo Olè E Olè Benissimo Abbiamo vinto Andiamo a farne un altro Impossible 99% Chiedo che questo sia l'ultimo livello per oggi E anche per Aleandro Dai Aleandro Non deludiamo il nostro Pubblico Vai No Dai Che palle Dai 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 No Sono Morto Riproviamo Difficile Ragazzi No Dai Aleandro Vai No Vai No Eravamo vicini Questa volta Cazzarola Di Merda Vaffanculo Stupido Di un Aleandro Perché sei un imbecille No Ma perché Vai Dai 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 E vincono Ragazzi Aleandro Stavolta Non mi ha deluso Per oggi Credo che possiamo Terminare Mi raccomando Spolliciatevi Supportarmi Commentate Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi Condividete il video E noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao Ciao